Musica 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 Buondiii! Musica Posso mangiare un pezzettino Mmm buona torta A voi partite subito così? Va bene Allora Guardate che splendore è il piano di sotto Guardate qua che splendore No no Che splendore è il piano di sotto Che cosa ho fatto? Un bel po' di roba Mi sono fatto un elenco puntato perchè ho fatto troppa roba Elenco puntato numero uno è Assembly table Vedete? Assembly table Ne ho fatti Sostanzialmente uno per ogni cosa da fare Perché Se ne guardiamo da qua Guarda qua Però non parte perchè è una leva in mano No 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 stavo scherzando Questi sono gold chipset Allora Questi assembly table fanno tutti i chipset Questi Penso altri chipset Esatto Questo fa il pulsating chipset Poi vi spiego che cazzo è Non succede niente Fanno I tubini Per fare i gate E questi fanno i gate No questi fanno un altro tubo Perchè? Ah bisogna togliere le scale E questi fanno gate Iron gate Questo è gold gate Gold gate Sfortunatamente il diamond gate Diamond gate Eh che si fa con Questo Non lo posso fare perchè Ho bisogno di 5 slot Quando qua ne ho solo Sfortunatamente 3 disponibili Quindi il diamond gate Se mai mi servirà Me lo farò a mano Sostanzialmente Come funziona qua? Che questo è un crafting pipe Mette le cose nel satellite pipe Per esempio numero 4 Che credo sia questo No questo è l'8 E' pieno di mostri qua Aiuto Questo è il 4 Mette le cose nel satellite pipe Numero 4 Che è questo assembly table Aspettai qui L'assembly table Si accende Accende queste cose qui Fa tutto E quando ha finito Mette le cose dentro questa chest E ho fatto questo 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 pattern Perchè Gli assembly table Si vedono a vicenda Come chest Quindi se mettevo un assembly table Attaccato a un altro L'assembly table Un assembly table Metteva le cose dentro l'altro L'altro assembly table L'altro assembly table Metteva le cose dentro l'altro Insomma era un gravole Quindi con una chest Al centro è meglio Assembly table Assembly table finiti Sostanzialmente Vi farò vedere dopo Come funzionano Perchè tanto i gate Li ho già fatti tutti Seconda cosa Termiomic fabricator Guardate qua Che ficata Ne ho fatti 1,2,3,4,5,6 A cosa servono i termiomic fabricator Per fare Cosa è un palo Una luce E come si chiamano Tube Eccoli qua I tube Gli electron tube Che servono per fare le farm Mi li avete già fatti Già visti fare Per fare una farm Ne ho fatto uno Per ogni tipo di electron tube L'unica sfiga È che questi termiomic fabricator Hanno bisogno di Vetro qua Che non può essere messo Dentro dai tubi Perchè non vanno Perchè ovviamente il tubo Li mette qua E non vanno E quindi ho scritto semplicemente qua Ehm Vabbè rifornire malumemente di vetro Così me lo ricordo È uguale a prima Seconda cosa Coi gate Vabbè ve lo spiego un attimo dopo coi gate Ho fatto qui E sostanzialmente Ehm Termiomic fabricator fatti Ne ho fatto quello di copper Poi c'è Tin Bronzo Oro No Iron Oro e gold E diamond E sono figli Sto per morire E tra l'altro li ho già usati per far Per insegnare al mio crafting system La roba E poi I gate Assostanzialmente I gate Come funzionano i gate Aiuto Se tu metti un gate Sotto a una macchina per esempio Sotto a questa macchina Spero di Qua Gate Iron gate Ha tante Ehm Come si chiamano Come si chiamano Un po' di cactus mi servono 26 Quanti cactus mi dai Che cactus vuoi No Come si chiama ragazzo Come si chiama Cosa Cactus Quando tu hai una non possibilità C'è tipo Guarri Una chance Una No Nei gate Ci sono tante non possibilità Possibilità non possibilità Uscite Uscite No non uscite Combinazioni Tante Tante Combinazioni Combinazioni No Tu puoi scegliere Tu puoi scegliere Redstone signal on Red pipe signal on Pipe empty Pipe full Cose nell'inventario Tante Tante Possibilità Non possibilità Non lo so Dove sei or so Sotto nel buco Si può scegliere Che buco Tanti modi per accendere questo gate In che buco sei? Tanti modi sono Se questo gate sta ricevendo Un red pipe signal Cioè questo qui è red pipe Non il red pipe quello dorato Questo filino Che è sopra il red pipe Ma non c'è niente Si può scegliere Red pipe signal off Pipe empty Cioè questa cosa qui Si accende quando il tubo è vuoto Power traversi Redstone signal Off On e off Inventory empty Perché sostanzialmente questo 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 Gate sta guardando questa macchina Quindi questa macchina ha un inventario E Che sta facendo? Ah no Questa macchina ha un inventario E quindi guarda se l'inventario è pieno o vuoto Oppure se c'è qualcosa nell'inventario Se c'è spazio nell'inventario Inventario Se c'è l'inventario pieno Inventario Inventario Tank empty Liquid in tank Space for liquid Tank full Oppure Se c'è il fuel Minore del 25% Un inventario Ma quanto è il profondo sto buco? Io ho scelto semplicemente as work Cioè quando questa macchina ha lavoro Ha qualcosa da fare Cioè Ha l'acqua qui Ha compost qui Ha qualcosa da far fermentare qui E ha una can qui Anzi no La can qui non credo sia Sia necessaria Però vabbè Quando questa macchina ha lavoro Fai partire un segnale Di Di red pipe Che è questo qui Questo segnale va 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 Scorre scorre E va fin qua Cosa c'è cosa c'è qui? Gli iron gate Ah ecco Che dicono Se c'è Red pipe signal Fammi un redstone signal E cos'è il redstone signal? Accende questi motori Quindi se io metto dentro Anzi vi faccio vedere dopo In questa cesta Ci sono i biogas Biomass can Che vengono ovviamente creati da questo sistema Questo pipe qua Ha un gate Aia Questo gate dice Quando c'è qualcosa nell'inventario Fai partire un segnale Diretto Ora c'è qualcosa nell'inventario Non di redstone Scusate Di red pipe No no Ora c'è qualcosa nell'inventario Ecco bravo rega Ora c'è qualcosa nell'inventario Quindi Il segnale è attivo Questi pipe qui invece Dicono che quando c'è un red pipe signal on Disabilita il pipe Questi pipe qui ovviamente sono supplier pipe Che dicono di tenere Compost No Supply Can Quindi quando è Quando è disabilitato Questo fermenter non ha Non riceve le cose per funzionare Quindi quando è disabilitato Questo questo Fermenter non ha lavoro E quei motori la sono spenti Se per caso io tolgo le cose da qua Questo segnale si spegne Le cose cominciano ad arrivare Guardatele Questo fermenter comincia ad avere lavoro Questo si accende E i motori si accendono Ci vuole un attimino per riscaldarli Ma i motori si accendono Senza che io abbia dovuto fare nulla I motori si accendono Cominciano a produrre Ma Dario se non vuoi fare nulla Cioè Silenzio Cominciano a produrre E ovviamente qua è uscita la roba vecchia Sfortunata ammanta Ehm Questi sono autarchic gate E cosa sono? Sostanzialmente simulano un redstone Un redstone engine che è qua di fianco E cosa fanno? Buttano fuori le cose E in fondo La macchina a lavoro La macchina a lavoro Stanno buttando fuori le cose E certo Auguri E quando Sto già andando Queste cose ritornano dentro Ora di nuovo c'è roba qua dentro Il segnale si è riacceso Oh c'è una piramide qua E questi motori Non Questi Supplier pipe Non danno più le cose A questo fermenter Che ha finito di avere lavoro Ah oi Oh la Comprende? Comprende? E' indegno Funziona tutto da solo Porca puttana Havana club Esatto Claro che si Con Havana club Quando avrò tanti Biogas engine in giro Biogas engine? Eh? Eh dai Come si fa a prendere il fuoco? E useranno queste biomass can Come si fa? A prendere il fuoco Per fare le same plate Finiranno queste can qua Questo sistema si attiverà da solo Can 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 camini Can camini Spazza camini Quello si Rimetterà le can qua dentro E si spegnerà da solo E' una figata? Si ditelo E' una figata E' una figata Si Next step Logic gate Li ho già fatti vedere Next step Recyclers Guardate qua dietro cosa ho fatto Ah tra l'altro Tanto per Piccola parentesi Queste sono advanced machine E hanno la pippa Che non possono ricevere Fuori L'energia Dalla msfu Perché la msfu Butta fuori 512 E l'advanced machine Ora non so per quale motivo Strano Possono ricevere solo Fino a 128 Quindi ora qua c'è Un transformer Che butta fuori a 128 Io semplicemente ho colorato Questi qua e questi qua Due colori diversi Così non Non si intralciano tra di loro Non esplode tutto Queste invece sono machine normali Però ci ho messo due transformer upgrade Come l'ho già fatto da tempo E quindi questi possono ricevere 512 Qui prima ho visto questa freppa Qua dietro cosa ci sono? Tre recycler Perché? Perché voglio cominciare a A creare A produrre dello scrap Per metterlo dentro una Mass fabricator Che forse farò oggi Ma non lo so Non c'è niente di sti cosi Dopo che ho fatto il mass fabricator Potrò fare No La Quantum suit A tutti E poi fatta la quantum suit Potrò fare la Gravitational Gravi Qualcosa Gravi chestplate Qua Gravi chestplate Che vi assicuro che costa veramente una madonna di roba Bevati E L'advanced Advanced No Ultimate Scusate Ultimate Ultimate solar panel Ultimate solar panel Che ci vuole un'altra madonna e mezza di roba Sarà il mio favore Mi vai prendere la cosa di nuovo Che cosa? E i recyclers È dell'oro Come tutti gli altri Qua c'è un item sync Dopo voglio dormire Anzi scusate Ecco un terminus Come dormi Cos'è un terminus Andiamo nel villaggio Sostanzialmente è uguale a un item sync module Però ha priorità minore Quindi È lontanissimo Se io metto nel terminus module Io ho sogno Queste quattro cose Queste quattro cose hanno priorità minore Al Item sync Che è nella cesta Quindi prima si riempirà la cesta Questa cesta qua Poi quando questa cesta sarà piena Andranno nel terminus Se non c'è più posto neanche nel terminus Torneranno nella default route Però questo non succederà Perché nel terminus ovviamente Vengono 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 riciclati appunto Cosa stai facendo? Poi vi farò vedere un modo carino Per far funzionare il mass fabricator Solo quando C'è lo scrub dentro Che è una figata Cos'è successo? Che è una figata Posso dormire anch'io se volete Hai paura orso che ti cassa la lava? Posso dormire? Volete dormire? Voglio volete che dormire? No? Non si può Poi Next step Pompa dell'acqua Guardate qua la pompa dell'acqua Ormai non mi inculino Vi ricordate che io avevo semplicemente preso tante Can Di acqua A mano Le ero andate a riempire Per metterle qua dentro Ora Ho questa pompa dell'acqua Che lo fa da solo Cioè Questa è una fonte infinita d'acqua La riconoscete Perché Si Questo è un Bottler Cos'è un bottler? Il bottler Semplicemente prende l'acqua E dà delle gran bottler Acqua Cosa c'è l'ha? E le mette dentro una can Oppure X Una can Diventa una water can O Una Cell diventa una water cell Quindi io gli ho messo un fungo Un fungo rosso Due crafting pipe diversi E il mio sistema ora sa Sia come craftare le water cell Sia come craftare le water can Ovviamente questo è un gate Che quando c'è lavoro Il file Il red pipe signal E questo si accende Quando c'è lavoro Quindi questo Questo motore funzionerà Solo quando queste cose Hanno qualcosa da fare Ovviamente adesso no Poi Mera quanta roba ho fatto Porca troia veramente Non c'è altro capito dietro Ah poi vabbè Sono andato avanti qua Non so a che punto ero arrivato Però guardate quanta cazzo di merda ho messo Troppa Troppa merda E anche qua dietro ovviamente E adesso Con questo fido e fantastico crafting system Qua dietro guardate L'arboretum E la farm E il logger E il combine Quindi indovinate cosa faccio L'arboretum E il logger Basta chiederlo Credo di avere abbastanza risorse Credo Non lo so Ma Arboretum Missing one team Merda Io ti ammazzo Porca troia Qui c'è un posto Porca troia C'è un blocco di diamante qua in fondo Allora A votazione Mi do un team con la creative Sì Facciamo così No Ah mi spiace Ma perché Missing one team non me lo può dire Bene Come se niente fosse Ora c'ho un team in più Non c'è niente qua Adesso Guardate È per il bene della scienza ragazzi Un albero questo Per il bene della scienza Non mi piacciono gli albero Arboretum Datemi l'arboretum subito Guardate tutta la merda che comincia a uscire Guardate qua Boom Allora sostanzialmente Questo lo devo fare No Aiuto Ecco Devo metterci Il Il vetro qua sopra Si sta prosciugando l'acqua Mettere un tubo Qua Perché questi 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 qua Si sta prosciugando l'acqua Se no Terebbero sempre accesi I motori Perché buggano Perché è come se avessero sempre lavoro questi qua Non so per quale motivo strano Però adesso gli chiedo Un Vetro Un glass Dammi un glass E lui lo metterà ovviamente qua dentro E poi me lo darà qua fuori E poi gli chiedo anche un Gold Orso vieni di qua Conductive pipe Golden Conductive pipe Orso Senti Dove? Qui Allora lo metto qui Metto il vetro dentro No dov'è? Eh scusami Sui Vabbè Dov'è andato? Dov'è andato? Mannaggia lui Dov'è andata la merda? No no Alla in fondo c'è qualcosa Mi sa Cos'è successo qua? Perché No No Ho sbagliato Vabbè Metto il vetro qui sopra Questo si comincia Cioè si comincerà a sciogliere quando accendo questi motori Ovviamente con questo Con questo qua Che dice Cosa dice? Redstone signal Red pipe signal I motori si accendono Ovviamente come vedete Ah balle invece perché bugga di nuovo Vabbè Che bastardata Ma devi non c'erano L'energia arriva lo stesso però io ho detto Che cazzo me ne frega Metto due file di motori Ora in questo momento sto bugadendo 5 Per 8 Quindi 40 Ehm Joule per tic Quindi questi cosi qui Ah pittano adesso è più caldo Come facciamo? Dunque io ho messo questa roba qui Perchè E' andato? Ah certo Perchè Fare un tiro sott'acqua Questo è un altro problema Vedete Quante ne hai? Dove è andato? E' andato qui Il carpenter Però Per creare gli small circuit board Bugga Coltini E col Ehm Col Guarda qui Come si chiama? Non il copper L'altro Il bronzo Lo mette qua sopra Non c'è modo Proprio è bugato e basta Quindi lo devo mettere a mano Questo lo fa Ta 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 Esce E noi faremo uscire la small circuit board da qui Fammi uscire BOM Mi fa paura E direi che l'ultima cosa per fare il nostro Guardate qui Guardate cosa è venuto fuori BAM Arboretum No Mi sta crendi Lava in testa Lava in testa Lava in testa Ehm Ora devo spegnere tutto Quindi spengo questo Dove sei? Spengo i motori Uff Merda E poi Devo Mettere Allora Diamand Basta Esatto Dammelo qua diamantine Cazzo Aspetta io c'ho Diamantine Lo devo mettere qua dietro Allora aspettate un attimo Che guardo anche qua Questi sono giusti Questi sono quattro Questi sono Guardiamo cosa c'è di là Poi metto via sto fare Metto tutto su Ando su con la cabola Mi vado a piantare l'Arboretum Questo via Questo via Ehm Il Golden Conductive Pipe Via Ah no ovviamente ho bisogno anche del logger Vediamo se riesco a farlo il logger No 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 Basta però Tutto nella lava Tutto nella lava No no lo credo io No no tutto resto nella lava Mi sa che tra questa e la prossima puntata Vado un po' a scavare La drill e la giuppa di torta Vado un po' a scavare E mi sa che metto su anche le quarry Già che ci sono Che cazzo fai? Eh? Cioè sei fin È tutta qui la tua roba Mangia un pezzo di torta Secondo me t'ammazzo Non riesco No non me lo stai Certo ti ho ucciso Ti vado fermo E io ti ho visto che t'ho ucciso Ciao ciao quindi Mi stai picchiando Mentre sei ancora invisibile o? Vieni qua Sì lol Benissimo Direi che It's time to go Ciao ciao C'è un ragno che ti stia braccando E tu non stai riuscendo a aprire la porta Ciao 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 No ciao Ah oh oh Ciao 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 ciao